Finisce tra zero, una partita che vi ha visto dominare dall'inizio alla fine, i primi due set siete andati in vantaggio, avete mantenuto sempre il vantaggio, nell'ultimo set siete stati sotto anche di diversi punti, ma siete riusciti a recuperare, avete meritato questa vittoria. In realtà la cosa che ci ha fatto vincere stasera è che eravamo determinate a vincere il terzo posto e anche quando eravamo sotto 8 punti ci credevamo, poi ci siamo un po' impappinate ma non abbiamo smesso di crederci un secondo. Come hai detto giustamente tu questa partita era praticamente uno spareggio per il terzo posto, Filaretta che durante il giorno d'andata è stata nella zona centrale del campionato della classifica, cosa è cambiato in questo giorno di ritorno che vi ha fatto cavalcare fino al terzo posto? Allora all'andata abbiamo avuto anche delle difficoltà organizzative, al ritorno siamo partite determinate, siamo riusciti a unificarci come squadra, a ritrovare bene l'unità e questo non ci credevamo in realtà all'inizio ma è stata la vostra esperienza. Ultima domanda, se foste riuscite ad essere così uniti fin da inizio anno potevate puntare al primo posto e direi l'obiettivo per l'anno prossimo? Ovviamente sì! Grazie mille, gentilissima!